un saluto a tutti gli amici di planet spin e benvenuti a questo nuovo video oggi parleremo di edging e nel dettaglio andremo a fare un approfondimento sulle colorazioni di edgy esistenti facendoci aiutare da una serie di immagini di slide andremo meglio a catalogare le varianti suddividendole per la tipologia di colore ricordo inoltre che questo video è un approfondimento al testo che ho realizzato qualche tempo fa e che trovate disponibile sullo shop amazon sia in formato cartaceo come questo che in formato elettronico in formato ebook tutti i riferimenti li trovate in descrizione e troverete anche il link per eventualmente acquistarlo allora partiamo subito con la prima slide e qui andiamo a vedere come leggi può essere suddiviso in tre principali categorie di colori colore classico colore naturale e colore di fantasia poi in seguito andremo meglio a specificare a cosa ci riferiamo a completare il panorama delle colorazioni degli edgy troviamo quelle keimura e quelle glow poi andremo meglio a definirle queste tipologie di colorazioni ma giusto per dare un'infarinatura possiamo trovare sia colorazioni di edgy classiche naturale che di fantasia sia in versione keimura che in versione o con appendici glow poi andremo meglio a specificarle nel nel paragrafo dedicato in questa slide andiamo a definire il colore degli edgy classico da quando sono stati inventati gli edgy i colori utilizzati sono stati principalmente l'arancione il rosso il rosa il verde e nell'immaginario collettivo si è un po stampato quello che il colore classico della totanara ed è quello che possiamo trovare sia nella slide che in questo video in sovimpressione fanno invece parte delle colorazioni naturali tutte quelle gradazioni di colore delle livree che vanno a richiamare quello che esiste realmente in natura è che la seppia o il caramaro i cefalopini in generale vanno a predare quindi andremo a definire come colorazione naturale le imitazioni di pesce foraggio quali cefalotti sarde sardine ma anche colorazioni che vanno ad imitare quelle del gambero del granchio e addirittura di altre di altri seppie in merito alle colorazioni definite di fantasia troviamo tante tipologie di di colore di livree che sono in qualche modo state inventate dalle ditte di produzione e che comunque hanno una certa efficacia sui cefalopodi sono dei dei colori che non hanno un bel un distinto riferimento per qualcosa che il pesce identifica come reale e che però riescono a far scattare e nel nell'animale quell'istinto predatorio che li porta ad attaccare in merito alle colorazioni che mura dette anche colorazioni uv possiamo trovarne sia in librea classica in librea naturale o librea di fantasia questo è uno speciale rivestimento che viene applicato alle totanare e permette al cefalopode di identificare meglio questa questa artificiale sulle alte profondità o in presenza di acqua scura anche per quanto riguarda le colorazioni glow possiamo trovarne delle tre principali categorie quindi sia e g il livrea naturale che classica che di fantasia possono avere delle appendici o delle zone del corpo in colorazione glow ovvero fluorescente questa particolare vernice sottoposta al raggio luminoso come può essere quello di una torcia o del sole riesce ad emettere questa fluorescenza in modo che soprattutto di notte o in acque profonde il cefalopode riesce meglio a identificare il nostro e g per completezza di informazione andiamo a dare qualche altra informazione in merito a delle totanare di recente introduzione sul mercato e che hanno la particolarità di avere il colore dell'interno del corpo differente da quello dell'esterno quindi del rivestimento queste particolari totanare hanno un utilizzo specifico a secondo delle fasi della giornata delle colorazioni dell'acqua e di questo e di altri dettagli tecnici in base in base alla scelta che potremmo fare di utilizzarle nelle nostre sessioni di pesca ne parleremo più in modo approfondito nei prossimi video molto bene per il momento è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like oppure utilizzate i commenti per richiedere qualche informazione ulteriore in merito a questo video in merito allo spinning in generale potete iscrivervi al canale utilizzando la campanella riceverete gli aggiornamenti per le prossime introduzioni per il momento è tutto come sempre un saluto a tutti gli amici di planet spin